E se ti decissi che siamo stati il primo supermercato d'Italia e che siamo orgogliosamente italiani e che oltre a offrirti i migliori prodotti facciamo noi il pane, la pasta fresca e la migliore gastronomia e se ti decissi che da noi la qualità costa meno di quello che pensi e che dietro ogni nostro gesto c'è qualcosa che rende speciale la tua spesa e se non ci credi, vieni a provare E se è lunga, più la conosci, più ti innamori Grazie